Buonasera a tutti. Vi confesso che quando qualche mese fa abbiamo deciso insieme l'argomento di questo incontro, la guerra nel Medioevo, certo, certo, perché siamo a San Luri, perché c'è il ricordo della grande battaglia del 1409, che è una tappa decisiva nella storia della Sardegna, e quindi parliamo, sì, parliamo della guerra nel Medioevo, che è un argomento come tanti altri. Oggi, nell'epoca che stiamo vivendo, parlare della guerra, come dire, ti dà qualche ripensamento. Ti chiedi se parlare della guerra nel passato, oltre a essere appunto un esercizio per capire com'era la gente del passato, non ci possa servire anche a capire un po' come siamo noi, e com'è il nostro mondo di oggi. Cioè, se parlare di come l'umanità ha fatto la guerra in altre epoche, non possa anche, in qualche misura, aiutarci a capire cosa vuol dire anche oggi, insomma, la guerra. Ecco, non so, io mi sono detto che forse quello che dovrei provare a far venire fuori è anche in qualche misura questo. Però, naturalmente, noi parleremo qui oggi di cos'era la guerra in questo lontano passato. E, intendiamoci, non specificamente di cos'era la guerra in Sardegna, perché io non sono uno specialista della storia della Sardegna, bisogna aver passato la vita a studiarla alla Sardegna per potersi permettere di parlarne. Io vi darò, spero, un po' di elementi per capire cosa voleva dire la guerra per la gente di quell'epoca e per aiutare chi si interessa della battaglia di San Luri e della Sardegna, dei giudici e dei catalani, a capire un po' meglio il contesto in cui si collocano quelle vicende. L'altra cosa che devo confessare è che quando abbiamo fissato questo argomento, la prima cosa che mi sono detto è, uh, sarà facilissimo, ci sono talmente tante cose da dire. Poi quando ho provato a preparare la scaletta che qui vedete, mi sono venuti sudori freddi, perché invece di cose da dire ce ne sarebbero un'infinità, troppe, troppe per dirle tutte. Io proverò a seguire un percorso attraverso quello che è stato la guerra, e cioè tante cose diverse, nel corso di quel periodo infinitamente lungo che è stato il Medioevo. E allora la prima cosa su cui vorrei provare a fermarmi è questo, come dire, la normalità della guerra nel Medioevo. Cioè il fatto che nel Medioevo la guerra fa parte delle esperienze normali, comuni, ovvie, di cui nessuno si stupisce che si presentino con una certa regolarità. Intendiamoci, non è che la guerra sia la normalità assoluta nel senso che sia sempre in guerra, non è così. Il punto è che per chi viveva nel Medioevo il tempo si ripartiva molto nettamente. C'era il tempo della pace e c'era il tempo della guerra, che si alternavano in modi diversi, ma sia l'uno sia l'altro rappresentavano una normalità. E per la brava gente che la guerra la pagava, il tempo della pace ovviamente era preferibile a quello della guerra, e per quelli che invece facevano della guerra la propria risorsa, il proprio modo di vita, e invece era da preferire il tempo della guerra naturalmente. Il tempo della pace e il tempo della guerra in parte era anche un ciclo stagionale, perché la guerra non si fa tutto l'anno. La guerra si fa quando c'è l'erba nei prati, e quindi c'è l'erba per i cavalli dei guerrieri e dei cavalieri, e c'è l'erba per i buoi che tirano i carri, i carichi di provviste, un esercito grande o piccolo, erano piccoli gli eserciti del Medioevo di solito, poche migliaia di uomini, ma comunque non si spostavano senza avere al seguito i carri carichi di vino, di farina, di carne, e i buoi che li tiravano, e i cavalli appunto dei combattenti. Quindi la guerra d'inverno non si può proprio fare, non puoi uscire in campagna d'inverno con migliaia di uomini, cavalli e buoi. La guerra aspetti la primavera e l'estate per farla. I popoli barbari, cominciamo proprio dall'inizio, dall'epoca delle invasioni barbariche, i popoli barbari avevano l'abitudine di una grande assemblea che si teneva il primo marzo, giorno simbolico, insomma, quando si può dichiarare l'inverno quasi finito, e il primo marzo un re dei franchi o dei longobardi radunava intorno a sé i suoi capi e i suoi vescovi, se erano già diventati cristiani, e in teoria anche tutti i guerrieri, quando erano al tempo delle invasioni, tutti i guerrieri, quel giorno si ritrovavano, era finito, stava finendo l'inverno, il lungo periodo dell'ozio, del riposo, e ci si preparava invece alla stagione in cui ci sarebbe stata la guerra. In certi casi la guerra c'era sempre. Il primo marzo segnava proprio lo spartiacque tra il tempo della pace e il tempo della guerra. C'è un dettaglio importante, lo dico adesso. I cavalli diventeranno sempre più importanti nella guerra medievale col tempo. Ne riparlerò, ma intanto tenetevelo per detto. All'inizio i barbari, pochi di loro andavano a cavallo. La grande maggioranza dei combattenti combattevano a piedi. Ma col tempo, e sarà uno dei temi che svilupperò oggi, col tempo il cavallo e il cavaliere diventano sempre più protagonisti della guerra. E allora a un certo punto si accorgono che fare l'assemblea il primo marzo non va più bene, perché l'erba non ha ancora neanche cominciato a venire fuori, e ci sarebbe da aspettare troppo. La ritardano. La grande assemblea del primo marzo al tempo di Carlo Magno e la grande assemblea del primo maggio. Perché a quel punto, sì, dopo la grande assemblea si può partire per la guerra. E nell'impero di Carlo Magno, creato appunto dal più bellicoso fra tutti i popoli barbari, i franchi, l'impero di Carlo Magno che è un impero come l'impero romano, cioè un impero che vive di guerra, che vive di conquista, di bottino, dove i capi si aspettano dal sovrano guerre fortunate, guerre vittoriose, occupare nuovi territori, spartizione di ricchezze, nuovi posti di comando, ecco. E dunque la guerra è un dovere del sovrano. Carlo Magno fa la guerra praticamente tutti gli anni della sua vita. Dal primo maggio si comincia. Nel corso del lungo inverno c'è stato tempo per ragionare, per decidere contro chi la facciamo la guerra. Ci sono tante direzioni possibili. Contro gli arabi in Spagna? O contro i sassoni pagani nel nord? O contro i longobardi in Italia, che non sono pagani, però sono nemici del Papa. E quindi anche contro di loro ci sono buone giustificazioni per fare la guerra. Durante l'inverno si pianifica e poi con l'arrivo della bella stagione la guerra la si fa. Alla corte di Carlo Magno vengono scritti degli annali. Si chiamano proprio gli annali del Regno dei Franchi. Sono testi brevissimi. Ogni anno qualche scriba annota anche soltanto poche righe per descrivere cosa ha fatto l'imperatore in quell'anno. e questi anni hanno tutti lo stesso schema. E cioè, cominciano col Natale. Dov'è che Carlo Magno ha fatto le feste di Natale? E poi dov'è che ha fatto le feste di Pasqua? Perché sono due momenti sacrali. Sono due momenti centrali in un mondo profondamente religioso, profondamente cristiano, nonostante la sua violenza e brutalità. Però un mondo dove la religione ha una funzione importantissima. e quindi è una cosa simbolica, è una cosa da ricordare ogni anno dov'è che era l'imperatore a Natale e dov'è che era a Pasqua. E da Natale a Pasqua appunto è il tempo dell'ozio, del riposo, della pianificazione. E poi gli annali ti dicono contro chi ha fatto la guerra l'imperatore quell'anno. In poche righe. Un paio di volte nell'arco del suo regno Carlo Magno non fa la guerra contro nessuno. E gli annali scrivono. E l'imperatore trascorse le feste di Pasqua nella città di Parigi, supponiamo, e poi si imbarcò e percorse il meno e il reno per mostrarsi al suo popolo. Perché se il re non fa la guerra, deve perlomeno farsi vedere, perché è qualcosa di strano. È strano, la gente si preoccupa. Come mai non fa la guerra quest'anno il re? Che stia male, che si è malato. Ecco, e quindi il re, se eccezionalmente l'estate non fa la guerra, deve farsi vedere andando in giro per tranquillizzare la gente. E poi l'Europa cambia. Questo grande impero si frantuma. Parlavamo prima dei castelli, no? E della peculiarità dei castelli della Sardegna. Ovunque sul continente il potere passa in mano a signori locali. Ovunque sul continente i castelli vogliono dire che il potere dell'imperatore è indebolito, che non garantisce più la sicurezza. E allora chiunque abbia i mezzi tira su un castello. Sul continente la rete dei, non parlo solo dell'Italia, in tutta Europa, la rete dei castelli è fittissima. Nei secoli a cavallo dell'anno 1000 nasce un castello, non dico un castello per ogni villaggio, ma quasi. Perché ovunque, ovunque, chi sul posto è ricco, ha degli interessi, ha del bestiame, delle terre, degli uomini da difendere, avverte che il potere dell'imperatore è debole e lontano e che per proteggere i miei interessi, la mia roba, le mie vacche, i miei servi, ci devo pensare io. E siccome io sono ricco e ho i mezzi, tiro su un castello. E a quel punto, scusate, mi fanno dei segnali per il fatto che le riprese non vengono bene se io sto qui. E dove mi devo mettere? Più indietro. E che volevo stare vicino a loro e non avere la luce degli occhi, ma capisco benissimo quelli fuori che hanno tutto il diritto. Più di voi anche. Allora, nasce, diciamo, quella che chiamiamo per convenzione la società feudale. Una società dove la gente ubbidisce, non a un imperatore lontano che comanda un vastissimo territorio. La gente ubbidisce a un signore che abita qui, che abita nel mio stesso villaggio, che è il padrone del castello, che garantisce protezione. E siccome garantisce protezione, bisogna anche ubbidire e pagare. Questo è il castello. Non è così in Sardegna, lo dicevamo, perché in Sardegna i giudicati rappresentano un tipo di potere che è ancora statale, che non si disgrega e che non ha bisogno di avere un castello in ogni villaggio per proteggere e sfruttare gli abitanti. Invece ovunque sul continente è così. Cosa c'entra con la guerra? C'entra perché i padroni dei castelli garantiscono la difesa al paese perché sono dei militari, perché il castello è una struttura militare e il padrone, i suoi figli, i suoi parenti e i loro vassalli sono un'aristocrazia di guerrieri, gente che di mestiere sa fare la guerra oltre a comandare. Ecco, in quel momento nella società medievale saper comandare e saper fare la guerra diventano la stessa cosa. Tanto che perfino il clero per un lungo periodo si sente un po' a disagio per il fatto che anche il clero ha vocazione a comandare naturalmente, anche i vescovi fanno costruire castelli per difendere le loro terre, i loro possedimenti, però loro non dovrebbero andare a combattere, ma è più forte di loro. I vescovi vanno in guerra anche loro, alla testa dei loro vassalli, nonostante leggi che lo proibiscono, critiche e così via, è più forte di loro. Chi comanda deve sapersi far vedere a cavallo con la spada in pugno. Quando signori e principi del Medioevo cominciano a farsi fare dei sigilli per sigillare, per autenticare i loro atti, le loro lettere, i loro documenti pubblici, su questi sigilli si fanno rappresentare e si fanno rappresentare a cavallo con l'elmo calato, con lo scudo al braccio, con l'oro stemma e con la spada in pugno. Il potere è militare. E questa aristocrazia feudale fa la guerra in un modo totalmente diverso da come la faceva Carlo Magno. La guerra continua a essere una cosa normale, ma è un altro tipo di normalità. La guerra è il modo normale con cui questi signori, abituati a comandare e abituati a stare a cavallo, armati, è un modo normale con cui risolvono le controversie fra loro. La guerra feudale è la cosa più lontana che possiamo immaginare dalle grandi guerre ideologiche del Novecento, dalle grandi guerre fra stati che si odiano e vogliono annientarsi a vicenda. La guerra feudale è tutta un'altra cosa. La guerra feudale vuol dire che io, che da questo castello controllo due o tre villaggi e qualche centinaio di famiglie di contadini, da un po' troppo tempo sopporto che il mio vicino, il padrone del castello a tre chilometri di distanza, mandi i suoi uomini a tagliare la legna in quel pezzo di bosco sul confine che secondo me è mio. Io sono sicuro che fino al ruscello il bosco è mio e invece gli uomini del mio vicino vengono lì, il pascolo, quel pascolo un po' in altura, i miei pastori mi assicurano che è nostro quel pascolo, però ci vengono anche i pastori del mio vicino. E col mio vicino ne ho discusso tante volte e in certi casi ci si mette anche d'accordo, si fa un bel arbitrato, si trovano degli amici comuni perché non c'è più l'imperatore a cui andarlo a chiedere, non ci sono più giudici, tribunali o sono troppo lontani. Allora le controverse se si è d'accordo di risolverle pacificamente si risolvono con l'arbitrato. Andiamo, ci incontriamo una buona volta, io il mio vicino da un po' di tempo lo trovo molto antipatico per questi litigi che abbiamo continuamente, però naturalmente è anche mio cognato probabilmente, o siamo cugini e comunque non vogliamo mica annientarci a vicenda, vogliamo solo risolvere questa controversia. Siamo d'accordo di risolverla pacificamente? Dai, va bene. Allora andiamo e ci mettiamo d'accordo. A chi ci affidiamo? Propongo mio fratello che è il vescovo della città più vicina. Va bene, però allora anche un parente mio. Creiamo una commissione e ci mettiamo d'accordo, giuriamo di osservare quello che loro decideranno. Però ecco che stavolta invece il mio vicino non si lascia convincere. I suoi pastori e i miei si sono già bastonati più volte sui pascoli e io gli ho detto più volte, mettiamoci d'accordo, troviamo qualcuno che si... No, lui non vuole, è ostinato, è ostinato. Allora in questi casi si fa la guerra. Si fa la guerra per risolvere questa controversia. Far la guerra per risolvere la controversia vuol dire sostanzialmente che un bel giorno io faccio sapere al mio vicino, guarda che ho deciso di farti la guerra. Comincia domenica prossima. Da domenica prossima sappi che siamo in guerra. Il che vuol dire che in qualunque momento, magari subito, domenica stessa, oppure quando voglio io, lasciamolo cuocere un po' nel suo brodo, siamo più forti noi. Ma verrà un bel giorno in cui siamo in guerra e quindi del tutto legalmente io salgo a cavallo, io, mio fratello, i tre figli, i quattro nipoti da Grandicelli, cinque o sei altri uomini nostri, saliamo a cavallo e invadiamo il territorio nemico. Cioè attraversiamo il ruscello e passiamo sulle sue terre. E lì le sue vacche ce le portiamo via e i suoi contadini li bastoniamo e le loro capanne le bruciamo e le viti le tagliamo, gli ulivi li tagliamo. E se lui ha coraggio che venisse giù, lui e gli altri suoi, a cavallo anche loro, a vedere chi vince. E se invece non ha coraggio e si chiude nel castello, noi andiamo avanti così per un giorno, due giorni, tre giorni, poi ce ne torniamo a casa portandoci via le sue vacche, le sue pecore. E questa è la guerra. E si continua finché il mio vicino non dice ma forse avevi ragione tu, mettiamoci d'accordo, lasciamo stare, troviamo qualcuno che decida. La guerra si fa allo scopo di convincere la controparte che bisogna farla finita con questo litigio. E quindi, capite, non ha lo scopo di annientare il nemico, in nessun modo. E se si dovesse arrivare allo scontro, certo, a quel punto lì sono volte da orbi, si può scappare il morto, ma non è che lo si fa apposta, non è che ci tengo particolarmente ad ammazzarlo il mio vicino, tanto dovremmo sempre convivere. Fare la guerra è un modo normale di diventare ragionevoli dopo un po', quando ti accorgi che il bilancio è a tuo sfavore. Questo vuole anche dire che all'alternanza fra il tempo della guerra e il tempo della pace si aggiunge un altro elemento, il terzo, il tempo della tregua. Notate che sia guerra sia tregua non sono parole latine. Questo modo di ragionare è dei barbari, è dei popoli germanici, sono parole germaniche. La tregua vuol dire che avendo scatenato la guerra, arriva un momento in cui il mio avversario mi fa sapere che forse preferirebbe che ci mettiamo d'accordo, e allora io dico va bene, va bene, d'accordo, ti concedo la tregua. Ci incontriamo davanti a testimoni e ufficialmente con dei gesti, con dei rituali, dichiariamo che non siamo ancora in pace, perché non abbiamo ancora deciso la soluzione del nostro litigio, però siamo in tempo di tregua. E la tregua durerà da adesso fino a Pasqua, da adesso fino a San Michele, d'accordo? E se uno di noi due volesse rompere la tregua, si impegna ad avvertire l'avversario con una settimana di anticipo. Capite? Proprio perché la guerra è normale modo di risolvere un litigio con qualcuno che io non ho intenzione di annientare, ecco, ma con cui continuerò a convivere anche dopo, il tempo si segmenta sempre più nettamente. Nascono lì tutte quelle cose che poi gli stati moderni hanno continuato a fare fino a ieri e che oggi non si fanno più. Tipo dichiarare guerra a un paese quando lo vuoi invadere. No. La dichiarazione di guerra è già stata presentata agli ambasciatori di Francia e Gran Bretagna. Chi di voi si ricorda? Qualcuno che da un balcone di Palazzo Venezia avvertiva? No, la dichiarazione di guerra è stata presentata. La guerra comincerà il giorno tale, e allora tale. Per questa gente è fondamentale. Bisogna saperlo. Bisogna sapere se in questo momento siamo in pace o se siamo in guerra o se siamo in tregua e fino a quando dura. Il che significa anche che diventa possibile segmentarla ancora di più. Perché, mentre, voi lo capite, per questi nobili fare la guerra fa parte del loro mestiere. Se io voglio comandare in questo posto ed essere rispettato ed evitare che il primo che passa violi i miei diritti, devo far vedere che quando mi provocano io so salire a cavallo e tirar fuori la spada. Lo devo far vedere. Ed è anche un gran divertimento, naturalmente. Questa gente passa tutta la vita ad addestrarsi a combattere. ne parleremo anche di questo. Per quelli che la subiscono, per i contadini che si vedono portare via le pecore e che se non scappano in tempo finiscono bastonati o peggio, ecco, per loro no, che non è un divertimento. E quindi, anche qui, questa società vive in una polarità fra quelli per i quali la guerra è una sciagura e quelli per i quali, invece, la guerra è una cosa normalissima da fare e anche abbastanza piacevole, tutto sommato. Perché lì fai vedere chi sei. E allora può succedere che dal basso ci sia una pressione per dire ai nobili che fanno la guerra che devono però mettere dei paletti, che devono cercare di avere dei limiti. Il clero appoggia queste posizioni. Ci sono movimenti guidati dal clero che si chiamano i movimenti della pace di Dio o della tregua di Dio che vogliono proprio, ragionano proprio nei termini di un mondo dove lo spazio e il tempo si possono dividere. E allora il movimento della pace di Dio è un movimento di popolo diretto dai preti per dire ai nobili fate la guerra quando dovete farla ma non fatela dappertutto. Le chiese non attaccatele per esempio e chi si rifugia nelle chiese che non venga attaccato, che ci siano degli spazi dove rimane la pace inviolabile anche quando tutto intorno c'è la guerra. Oppure la tregua non fatela di domenica la guerra e neanche di sabato e anzi se possibile neanche di venerdì che ci siano dei giorni in cui si sa che per ragioni religiose c'è la tregua. Capite? C'è tutta una concezione specialissima di quel che è la guerra per permettere di gestirla in questi termini. Il secondo punto su cui volevo fermarmi è il problema di chi fa la guerra che in qualche misura abbiamo già toccato però però ci torniamo in modo un po' più sistematico. Chi fa la guerra? I popoli barbari che hanno invaso l'impero romano avevano come dire la concezione per cui ogni uomo è un guerriero ogni uomo libero è un guerriero avete visto le orrende serie televisive sui vichinghi per esempio eccetera che lasciano il tempo che trovano però comunque ci familiarizzano con l'idea di una società dove l'uomo è armato l'uomo è armato ed è un guerriero se preferite gli indiani di Toro Seduto va bene anche quello come esempio e l'uomo normalmente a meno che non sia proprio un poveraccio o malato o malconcio o troppo po però se no è un guerriero di solito per i popoli barbari popolo e esercito vogliono dire la stessa cosa i cronisti longobardi dicono l'esercito longobardo si è trasferito dalla Pannonia in Italia intendono dire il popolo dei longobardi si è trasferito e ancora al tempo di Carlo Magno c'è chiarissima questa idea che la guerra è una questione pubblica la guerra dell'imperatore che riguarda tutto il popolo e che tutti sono chiamati a fare la guerra ora voi capite però un conto è se questa cosa la pratichi in un popolo all'epoca delle invasioni barbariche si stanno spostando tutti insieme ogni uomo è un guerriero ha le sue armi e va bene ma la guerra di Carlo Magno non funziona più così Carlo Magno governa un impero immenso in teoria ha il diritto di convocare per la guerra a chiunque ma non è che può chiamare tutti gli abitanti del regno a fare la guerra non avrebbe il minimo senso allora deve cominciare a decidere chi faccio venire innanzitutto e innanzitutto faccio venire i ricchi perché i ricchi sono in grado di avere cavalli e armature e sono talmente efficaci in combattimento che quasi quasi potrei accontentarmi di loro c'è stata un'innovazione tecnologica decisiva una cosetta che sembra da niente hanno cominciato a usare la staffa sapete che gli antichi non usavano andavano a cavallo senza staffe non esisteva la staffa nel mondo antico il che spiega perché i popoli antichi almeno quelli occidentali le guerre le facevano a piedi fondamentalmente i greci vincevano le battaglie con gli opliti i romani le vincevano con i legionari avevano anche loro un po' di cavalleria perché i giovanotti ricchi anche allora andavano volentieri a cavallo ma la cavalleria dei greci o dei romani non ha mai avuto una vera importanza in battaglia e uno dei motivi è che senza staffe la capacità di combattere a cavallo la forza d'urto la capacità di caricare in massa con la lancia in resta ecco senza le staffe te lo scordi non lo puoi fare bene la staffa invece cambia completamente le cose la staffa chiaro non è una di quelle cose che sono state inventate un giorno e di colpo tutti le usano però al tempo di Carlo Magno questa novità era già piuttosto diffusa allora un uomo a cavallo con le staffe è in grado di fare cose che senza staffe non poteva fare e una volta che tu hai messo in campo qualche centinaio ma addirittura qualche migliaio sulla scala di un impero qualche migliaio di uomini ricchi che sono in grado di combattere a cavallo e di avere un'armatura pesante e di passare il tempo ad addestrarsi naturalmente a combattere e beh allora in fondo tutta quella gentaglia a piedi non c'è mica più tanto bisogno di chiamarla Carlo Magno continua a convocarli si si continua a convocarli perché un po' di gente a piedi poveracci naturalmente i ricchi sono a cavallo i poveracci a piedi sì per tirare su le tende dell'accampamento per andare a prendere l'acqua per far da mangiare per occuparsi dei carri dei buoi poi i servitori i domestici sì c'è tanta gentà a piedi ce ne vuole anche di quella però quando Carlo Magno convoca per la guerra dice allora tutti quelli che sono in grado di permetterselo perché sono nobili o hanno dei vassalli o sono essi stessi vassalli di un ricco e quindi hanno avuto da lui le armi i cavalli quelli devono venire a cavallo con la cotta di maglia gli altri che vengono a piedi basta che venga uno su dieci dividetevi ogni gruppo di dieci nove si tassano per comprare l'arco al decimo almeno che abbia l'arco c'è un capitolare di Carlo Magno in cui dice non voglio più vedere nessuno che viene armato solo di bastone perché quelli che vengono solo col bastone meglio che stiano a casa ecco fondamentalmente a partire da questo momento le battaglie le vincono i cavalieri e in guerra per mettere in campo un esercito bisogna avere i cavalieri la marmaglia a piedi non è del tutto inutile ma è completamente secondaria ovviamente uso la terminologia che usano loro perché quella è una società che si bipertisce con i nobili che guardano tutti gli altri dicendo i rustici i villani ecco mentre noi noi siamo nobili e quindi sappiamo fare la guerra e quindi nella fase appunto delle guerre private con cui i nobili signori risolvono i loro litigi appunto sono loro stessi che fanno la guerra poi sì si fanno accompagnare da qualche servitore da qualche contadino ma la guerra la fanno loro innanzitutto e quando col tempo rinascono le monarchie come quella monarchia degli aragonesi che a un certo punto deciderà di venire a mettere il naso qui no? quando rinascono le monarchie comunque hanno interiorizzato il fatto che per fare la guerra prima di tutto hai bisogno dei nobili signori a cavallo e anche un re o un principe del treo del quattrocento quando fa la guerra innanzitutto chiama i nobili scrive deve avere gli indirizzi gli elenchi ai nobili che tengono feudi dal re si scrive per convocarli che vengano a fare la guerra poi si scrive anche ai contadini alle comunità contadine alle città dicendo sì mandate anche voi un po' di gente anche lì uno su dieci uno su cinquanta poi questi un po' vengono un po' non vengono chi non viene paga una multa però fondamentalmente la forza di un esercito si misura dai suoi cavalieri e lo stesso succederà e lo stesso succederà con i comuni italiani perché i comuni italiani quando fanno la guerra chiedono ai cittadini ricchi di andare a cavallo bene armati e poi tutti gli altri a piedi che per carità sono utili anche loro ma comunque forse la differenza nei comuni italiani capite è che lì girano tanti soldi l'economia del mondo comunale italiano è un'economia straricca quindi in città c'è tanta gente che è in grado di comprarsi le armi i cavalli quando l'imperatore Federico Barbarossa scende in Italia con duemila cavalieri tedeschi quei duemila cavalieri è tutto quello che la Germania è riuscito a fornirgli perché per armare e mantenere un cavaliere ci vuole il lavoro di qualche villaggio contadino poi scopre che Milano da sola gli mette davanti duemila cavalieri e come fanno? pian piano i tedeschi capiscono questi qua hanno un sacco di soldi e da loro chiunque ha i soldi diventa cavaliere è facile fare la guerra così pensano i tedeschi e dunque da questo fatto che la guerra la fanno essenzialmente i nobili e la fanno a cavallo nascono alcune conseguenze significative l'ho detto prima quando la guerra è la guerra privata fra due famiglie di signori vicini che dai rispettivi castelli litigano e un bel giorno decidono di dichiararsi guerra e allora il gruppetto che fa una scorreria invade le terre dell'altro e comincia a devastare se anche se arriva allo scontro non c'è nessun motivo di ammazzarsi molto meglio per esempio se io catturo il mio avversario perché a questo punto sì che ce l'ho il mezzo di pressione per dirgli la vogliamo finire questa guerra sei d'accordo che ci sediamo a discutere che è quello che io volevo fin dall'inizio e tu invece non volevi io lo catturo e a quel punto negozio da posizioni di forza e intendiamoci sì no certo che ti lascerò andare ci mancherebbe del resto siamo vicini da sempre e tu sei anche mio cognato però però mi paghi anche un riscatto non solo ti ho catturato quindi mi prendo io il tuo cavallo da guerra che costo come una Ferrari e mi prendo io la tua armatura le tue armi la tua spada ti ho catturato e se vuoi tornare a casa fai sapere ai tuoi contadini che devono tirare fuori i soldi è una consuetudine normale in un mondo cavalleresco dove non è che non ti stai antipatico con quello che stai combattendo però non c'è per esempio un odio ideologico capite non sono i nazisti contro i comunisti molto più comodo costringerti a pagare un riscatto la guerra ora agli occhi dei nobili che la fanno acquista un ulteriore vantaggio non solo è il modo in cui si risolvono le controversie quando proprio non si riesce a farlo in altro modo non solo è uno sport violento e appassionante in cui il rischio di lasciarci la pelle c'è ma non è enorme tutto sommato ecco è uno sport violentissimo estremo divertentissimo per quelli che la fanno a cavallo ripeto un po' meno per i contadini che scappano ma adesso diventa anche un grandioso gioco d'azzardo perché se mi va bene se in guerra catturo uno ricco e poi gli faccio pagare il riscatto mi sistemo per tutta la vita l'aristocrazia medievale e anche quella moderna sia chiaro adora il gioco d'azzardo che è vietato la chiesa lo condanna le leggi lo condanna non importa niente tutti giocano a dadi il modo più brutale è proprio così a dadi ma sapete che i nobili medievali giocano a dadi perfino quando giocano a scacchi allora adorano gli scacchi che come disse non so più quale gran maestro del passato come è noto sono uno sport violento non solo adorano gli scacchi ma giocano a scacchi tirando i dadi cioè le mosse che puoi fare sono limitate dai dadi che tiri perché gli piace troppo l'idea del gioco d'azzardo e allora la guerra è un grandioso gioco d'azzardo dove se mi va bene faccio un sacco di soldi se mi va male sarò io quello che deve pagare il riscatto e saranno cattive notizie per i miei contadini ma è anche questo normale sapete che quando nelle signorie intorno al castello i signori e i loro contadini fanno dei patti degli accorgi c'è tutta una fase nel corso del medioevo in cui all'inizio il potere di questi signori è violento arbitrario io ti proteggo e prendo quello che voglio ma lentamente dappertutto le comunità contadine imparano a negoziare col signore e a fare dei patti scritti come fai per ottenerlo? paghi in tanti casi paghi il signore che si è indebitato si mette d'accordo d'accordo scriviamolo io ad ora in poi quella cosa che ho sempre preteso non la pretendo più e le multe fissiamo un tetto e le tasse che dovete pagare fissiamo un tetto ecco in questo genere di accordi spessissimo il signore dice va bene io ad ora in poi come tasse vi chiederò soltanto un soldo all'anno per ogni famiglia tranne nei cinque casi in cui sono autorizzato a chiedervi un aiuto in più e i cinque casi che sono standardizzati dappertutto sono se devo sposare mia figlia che devo farle la dote che è un'enorme preoccupazione economica se devo far addobbare cavaliere mio figlio perché anche lì sono festeggiamenti costosissimi se faccio il viaggio d'oltremare come dicono loro cioè vado alla crociata oppure anche solo in pellegrinaggio a Gerusalemme a Santiago sto enumerando i casi in cui il signore ha diritto di chiedere ai suoi contadini un pagamento extra no? ecco quarto caso se c'è l'incendio se c'è l'incendio dovete pagare quinto caso la prigionia se mi hanno catturato in battaglia e tocca pagare il riscatto mi dispiace lo mettiamo nero su bianco voi tirate fuori i soldi e dunque ci si può stare certo la volta che sei catturato e arriva questa batosta poi i tuoi contadini per un po' ti guarderanno male riscuotere tutto quello che ti spetta non sarà mai tanto facile però non importa e allora capite anche di nuovo appunto perché certe volte in queste guerre non si muore molto mentre si muore molto di più quando quando la guerra per esempio la fa il re contro nemici stranieri quando gli avversari con cui ti batti non sono gente che conosci da sempre ma davvero invasori stranieri per esempio quando la guerra la fa il re quando oppone eserciti di nazionalità diverse allora appunto non è che che ci si sforzi di non ammazzare anche lì ben inteso c'è sempre l'idea se catturo uno ricco meglio catturarlo però quando torna la moda delle grandi guerre delle grandi invasioni ecco allora allora non sempre ci si può concedere il lusso di fare dei prigionieri la guerra dei cent'anni per esempio è un grande esempio la guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra con l'Inghilterra che vuole invadere la Francia vuole occuparli il re d'Inghilterra che è convinto di essere lui il legittimo re di Francia e per affermare questo suo diritto per cent'anni periodicamente sbarca con un piccolo esercito e cerca di sottomettere la Francia e intendiamoci anche i re il loro concetto di sottomettere il nemico è sempre lo stesso cioè attraversiamo il loro paese devastandolo bruciamo distruggiamo ammazziamo e vediamo se si arrendono ma quando si arriva alla battaglia allora sono battaglie sanguinosissime in quei casi sono state le grandi battaglie appunto della guerra dei cent'anni come Cressy nel 1347 oppure oppure come la battaglia di Asancur combattuta soltanto sei anni dopo la battaglia di San Luri e in modi molto simili tra lo stesso tipo di uomini d'arme gli stessi armamenti ecco lì cosa succede lì succede che da una parte e dall'altra il grosso dell'esercito è fatto da nobili signori i quali sarebbero anche d'accordo tutto sommato di rispettare le regole cavalleresche fare prigionieri anziché ammazzare per di più hanno armature ormai talmente formidabili che è davvero abbastanza difficile ammazzarli però però il re d'Inghilterra si è portato dietro dalla patria anche delle truppe a piedi e in particolare degli arcieri si è portato dietro un gran numero di arcieri perché i contadini inglesi sono bravi nel tiro con l'arco inglesi gallesi e dunque e dunque possono essere utili e allora una battaglia di quel tipo lì non è più soltanto una battaglia fra due schiere di cavalieri che si investono e poi si vede chi è più forte gli inglesi che sono in minoranza e quindi sono in difesa si schierano e gli uomini d'armi al centro però sui fianchi e anche davanti gli arcieri e gli arcieri che sono tanti sono migliaia e ognuno naturalmente con un palo aguzzo piantato davanti per cui la linea degli arcieri è protetta da questa siepe di pali aguzzi dietro le botti di vino sfondate con i boccali perché gli arcieri possano dissetarsi durante il combattimento e quando la cavalleria francese viene dentro viene dentro con la prospettiva che era normale nella mentalità di questi nobili che questi a piedi sono marmaglia per l'appunto e quindi li spaziamo via e normalmente la probabilità era quella voi capite tu puoi anche aver messo insieme tanta gente a piedi e sono tutti lì che aspettano non so chi di voi ha visto Alexander Nievsky di Eisenstein grandissimo film ma del 1938 naturalmente quindi ormai piuttosto vecchio che la fa vedere meravigliosamente questa cosa i russi sono a piedi e tutta questa fanteria a piedi e in lontananza comincia ad arrivare la cavalleria nemica che ti sta caricando e da quando li vedi a quando arrivano passa qualche minuto tu sei lì passa qualche minuto durante il quale ti guardi coi vicini e per fortuna diciamo così siamo tanti quindi i comandanti ci hanno ammassati tutti quindi non è neanche così facile scappare se quelli dietro cominciassero a scappare scappo anch'io che sono in prima linea di sicuro e quelli vengono sempre più avanti prima venivano al passo poi passano al trotto poi al galoppo cominci a sentir tremare il terreno e sai che fra un minuto sono qui e ti guardi l'ultima volta coi vicini e poi e poi pianti la lancia o lo scudo nella terra e speri in Dio ecco in questi casi tante volte quando la cavalleria investe la fanteria la fanteria va in rotta si sfascia scappano tutti se invece sono arcieri abbastanza specializzati che tutto sommato sanno il fatto loro e si sono piantati la loro bella siepe di pali a guzzi e hanno degli archi che tirano molto lontano e con una violenza impressionante sfondano le corazze oltre ad ammazzare i cavalli e allora in queste battaglie della guerra dei cent'anni un paio di volte succede che la cavalleria francese viene dentro al galoppo credendo di spazzare via tutti e invece cominciano a piovergli addosso le frecce e cominciano a cadere cominciano a cadere cavalli cominciano a cadere uomini quelli che arrivano dietro al galoppo capitombolano anche loro e dopo un po' è un mare di cavalli morti o feriti di uomini darme sbattuti per terra che fanno fatica a rialzarsi col peso delle loro armature e allora quando si vede che la carica si è esaurita e non ce la fa proprio allora gli arcieri escono fuori e escono fuori e gli arcieri sanno benissimo che il nobile uomo d'arme se l'avesse acchiappato l'arciere non ci pensava un attimo a dargli una botta alla nuca e ammazzarlo e quindi l'arciere non ha nessun motivo di salvare la vita al nobile signore che è lì per terra nella sua armatura che fa fatica a rialzarsi gli arcieri vengono fuori e hanno tutti lo stiletto il pugnale e col pugnale comincia vai dai caduti comincia a cercare la gola attraverso le connessioni dell'elmo e della cotta di maglia perché non fanno prigionieri ma perché è una cosa da nobili fare prigionieri se io sono un nobile signore e ne ho catturato un altro sia pure che io sono francese e lui è inglese apparteniamo alla stessa classe sociale ci capiamo mi pagherà il riscatto me lo porto a casa mia al mio castello e lo ospito fino a quando dall'Inghilterra non arriva il riscatto si fa così ma l'arciere non può fare questo l'arciere è un poveraccio però sa che l'uomo d'armi avrà un anello d'oro al dito e una borsa di monete da qualche parte nascosta e quindi per prima cosa gli pianti il pugnale in gola e poi i frughi e quindi in queste battaglie i morti ci sono e come e in quei casi anche i nobili signori insomma tante volte si dicono sai che c'è ammazziamoli tutti già che ci siamo e quindi anche qui vedete ecco forse la lezione di questo è come nella stessa epoca a seconda delle circostanze la guerra può essere dal punto di vista dei combattenti una cosa in cui il rischio di morire è praticamente minimo rispetto agli enormi vantaggi che ci sono a farla e poi invece trasformarsi in qualche cosa in qualche cosa di estremamente sanguinoso e atroce e a proposito di atrocità poi naturalmente certo le atrocità ci sono benché il codice cavalleresco invece insegni a risparmiare l'avversario e a rispettarlo quando è che ci sono le atrocità voi capite voi potreste anche dirmi già quando escono gli arcieri con i pugnali a sgozzare quelli per terra ce n'è già abbastanza di atrocità ma lì si tratta comunque del combattimento le atrocità sono un'altra cosa e quando e quando violi i cadaveri per esempio e quando e quando ammazzi o mutili i prigionieri anche queste cose succedono non in tutte le guerre medievali appunto spero che vi sia stato abbastanza chiaro sul fatto che le circostanze possono essere diversissime le atrocità ci sono per esempio quando la guerra è una guerra di religione nelle crociate allora nelle crociate i cronisti descrivono i cavalieri cristiani che dopo uno scontro vittorioso ritornano all'accampamento con le teste tutte mozze dei turchi uccisi appese all'arcione della sella in una battaglia a casa non l'avrebbero fatto mai ma qui sì lo fanno loro e lo fanno anche gli altri naturalmente e poi ci sono le atrocità quando la guerra è una guerra dell'imperatore contro dei ribelli perché in questa società che ormai è diventata molto evoluta negli ultimi secoli del medioevo che ha riscoperto il diritto romano e col diritto romano insieme a tante cose che a noi sembrano di straordinaria civiltà hai anche imparato che c'è un delitto che si chiama l'esa maestà che chi si ribella contro l'imperatore commette il delitto più terribile di tutti e non ha diritto a essere risparmiato in nessun modo quando i cronisti medievali raccontano di combattimenti di assedi durante i quali capita che si portano i prigionieri sotto le mura della città nemica che stai assediando e li impicchi lì sotto gli occhi dei loro parenti dei loro amici o gli tagli i piedi e le mani queste cose sono le cose che fa Federico Barbarossa o Federico II quando assedia una città della Lega Lombarda una città ribelle e gli altri ovviamente a quel punto fanno la stessa cosa quindi capite che noi abbiamo un percorso in cui la guerra può andare da un polo estremo in cui è modalità normale perfettamente legittima di risoluzione di un litigio fra due famiglie nobili e all'estremo opposto ribellione completamente illegale contro un potere costituito e la scala delle atrocità via via appunto cresce man mano che ci spostiamo verso quel polo tutte queste atrocità ovviamente a loro non sfuggivano anche allora c'erano voci e beh l'ho detto anche prima i movimenti per la pace di Dio per la tregua di Dio ma sono voci flebili le voci che condannano la guerra perché il fatto che la guerra è il mestiere della classe dirigente che chiunque comanda si fa vedere in giro armato a cavallo fa sì che sia impossibile come dire screditare la guerra non è possibile perché tutti quelli più importanti tutti quelli che comandano la fanno e si concepiscono e si autorappresentano come uomini di guerra e quindi la guerra è bella dal loro punto di vista la guerra è bella anche perché il nobile che la sa fare è come dire è un pezzo raro questo l'ho già in qualche misura accennato ma ripetiamolo combattere a cavallo in una battaglia medievale significa che tu sei a cavallo su uno stallone maschio non castrato perché il cavallo deve essere una bestia che non si spaventa di niente non deve aver paura dei nitriti delle urla di dolore delle trombe dei tamburi non deve aver paura deve essere uno stallone aggressivo molti di voi avranno avuto l'occasione di andare a cavallo provate a immaginare cosa vuol dire se il cavallo non è il normale cavallino stanco della passeggiata turistica ma è uno stallone non castrato in un contesto di estrema tensione collettiva che i cavalli respirano e tu sei su questo cavallo con addosso un'armatura che passa dalla semplice cotta di maglia dell'anno 1000 con l'elmo col nasale passa fino a arrivare alle armature complete del 400 del 500 che sono quelle che noi vediamo nei nostri castelli nei nostri musei che trasformano l'uomo in una macchina interamente coperta di ferro tu sei sul tuo cavallo scalpitante irrequieto con addosso un peso di ferro che può arrivare fino a 40 chili anche se naturalmente visto che si tratta di tecnologie così importanti il meondo medievale investe moltissimo nel riuscire a produrre armature sempre più resistenti ma anche sempre più leggere per cui l'armatura completa del rinascimento non pesa di più della più primitiva cotta di maglia del tempo di Carlo Magno perché le tecnologie sono migliorate i fabbri ben pagati producono acciaio sempre più resistente e al tempo stesso sempre più leggero però comunque hai addosso 40 chili di ferro sei su un cavallo alto grosso allevato apposta per essere capace di portarti non deve essere soltanto aggressivo il cavallo deve essere robustissimo e tu su questo cavallo il tuo mestiere consiste nel fatto che quando arriva l'ordine della carica tu metti la tua lancia in resta col tuo elmo da cui ormai hai soltanto più due fessure in cui intravedi qualcosa davanti e tu devi essere capace insieme a tutti gli altri perché poi puoi anche partire da solo ma fai una brutta fine bisogna cercare di muoversi tutti insieme insieme a tutti gli altri tu devi essere capace di partire quando arriva l'ordine per il tuo gruppo per il tuo scaglione non parte l'intero esercito insieme non sono mica scemi sono divisi in reparti in raggruppamenti in bandiere e i comandanti dicono andate dentro voi voi di riserva adesso è il momento buono attaccate anche voi e quando arriva il momento buono devi essere capace di portare il tuo cavallo al trotto e poi negli ultimi minuti al galoppo tutti insieme e gli altri ti stanno venendo incontro anche loro allo stesso modo e il tuo scopo nella vita è riuscire a colpire con la punta della tua lancia in cui capite che razza di energia cinetica c'è concentrata in quel millimetro della punta della lancia tra lo stallone al galoppo l'uomo i 40 kg di ferro la velocità e tu devi riuscire a colpire quello che ti viene incontro evitare che ti colpisca lui colpirlo allo scudo di solito alla testa se l'altro non è bravo non si ripara bene tu sei molto bravo invece lo scopo è colpirlo e sbalzarlo giù da cavallo perché una volta che l'hai sbalzato giù da cavallo bene o male il suo valore come combattente è molto ridimensionato poi arrivano quelli a piedi a seconda dei casi lo sgozzano oppure lo catturano dipende dal contesto come dicevamo ma tu devi saper fare questo vi immaginate quante ore di allenamento quotidiano ci vogliono per saper fare questo devi aver cominciato da bambino un proverbio medievale dice chi all'età di otto anni non è ancora montato a cavallo è buono solo per fare il prete e tu dunque sei uno specialista sei ricco perché tutto questo costa un'ira di Dio il cavallo l'ho detto il cavallo da guerra costa come una Ferrari e devi averne più di uno un uomo d'armi che si rispetti oltre al cavalluccio da Soma per i bagagli l'altro ronzino per il domestico quello per lo scudiero e poi almeno un paio di cavalli di ricambio per me perché i cavalli si stancano da morire comunque le marci i combattimenti tutto il più un cavallo da battaglia e uno da marcia che infatti ha due nomi diversi il cavallo da battaglia è il destriero e invece il cavallo che monti nella marcia è il palafreno tipologie diverse di animale tutto questo costa unire di Dio l'armatura costa unire di Dio però però in guerra si guadagna si guadagna perché comunque il re paga il re convoca i nobili per la guerra e i nobili benché siano suoi vassalli gli fanno capire benissimo che se sì in quanto suoi vassalli una mano gliela devono dare però se pretende che vadano fuori dal regno per aiutarlo a invadere un altro regno o se pretende che siano fuori di casa più di un mese ragioniamo i miei obblighi verso il mio re sono grandi però dopo un mese sono finiti se vuoi fare una guerra più importante paghi già nel medioevo ridiventa vero quello che è stato vero in tutte le altre epoche cioè che il denaro è il nerbo della guerra e allora ecco che per il nobile la guerra diventa la risorsa anche economica al di là dell'azzardo di cui parlavo prima ma quella sistematica più guerra c'è più si guadagna il re il principe pagano e pagano bene e così compaiono quelle figure come il trovatore Bertrand de Bourne che Dante mette all'inferno proprio per essere stato uno che voleva sempre la guerra che consigliava la guerra che godeva della guerra Dante lo mette all'inferno e se uno legge le poesie di Bertrand de Bourne capisce perché Dante lo mette all'inferno perché Bertrand de Bourne è uno che appunto scrive a un certo punto lui è uomo di Riccardo Cordileone e Riccardo Cordileone è passato alla storia come appunto un grande re valorosissimo ma all'inizio tergiversava per un po' non si impegna in nessuna guerra e Bertrand de Bourne gli scrive le sue canzoni sapete che i trovatori provenzali fanno politica con le loro canzoni le indirizzano ai sovrani ai principi per dirgli cosa dovrebbero fare e Bertrand de Bourne sfotte il re Riccardo perché non si decide mai a fare la guerra è sempre l'indeciso lo chiama en hoc et non il signor si e no momento decisivo momento dici no e poi finalmente Riccardo fa la guerra e Bertrand de Bourne scrive non posso fare a meno di mettermi a cantare perché il signor si e no il re Riccardo abbicca il fuoco e sparge sangue e grande guerra trasforma il signore avaro in generoso e quindi per questi nobili la guerra è il momento in cui io nobile valgo conto qualcosa in cui faccio i soldi ovviamente poi ancora di più quando nascerà l'epoca dei mercenari quando i comuni italiani non avranno più voglia di fare la guerra chiamando i loro cittadini a combattere come succedeva ancora al tempo di Dante sapete che Dante ha combattuto in guerra più volte in vita sua ha combattuto in una grande battaglia a Campaldino a cavallo perché era di famiglia abbastanza agiata da poterselo permettere e quindi il comune di Firenze imponeva a gente di quel livello di essere lì a cavallo con l'armatura poi nel 300 i cittadini dei comuni italiani si stufano e decidono che tutto sommato si guadagna di più con gli affari con i traffici e con la banca e visto che siamo pieni di soldi la guerra la facciamo fare a qualcun altro pagandolo nasce appunto l'epoca d'oro dei mercenari in Italia mercenari stranieri in tutta Europa si viene a sapere che il nobile disoccupato che è mezzo rovinato la crisi economica gli ha ridotto le entrate il suo re purtroppo in questo momento non sta facendo la guerra va in Italia trovi un capitano bravo si organizza una compagnia e si scende in Italia perché gli italiani sono sempre in guerra fra loro e pagano e per questi mercenari che sono in gran parte appunto anche loro nobili però nobili spiantati che per vivere devono fare la guerra e ovviamente appunto anche a loro non puoi andare a dire che la guerra è una cosa brutta tutt'altro c'è una novella del Sacchetti siamo alla fine del 300 che mette in scena proprio un episodio di questo tipo il protagonista è un famoso mercenario Giovanni Acuto un inglese tra l'altro John Hawkewood ma gli italiani lo chiamavano Messer Giovanni Acuto e il Sacchetti racconta in questa novella di certi frati francescani che vanno a trovare questo condottiero per chiedergli qualche favore e dice ve la leggo poche righe giungendo dinanzi alla sua presenza com'era loro usanza dissero un signore Dio vi dia pace capite sono francescani i pax vobiscum no Monsignore Dio vi dia pace e quelli subito risponde Dio vi tolga la vostra elemosina e i frati quasi spaventati dissero signore perché ci dite voi così disse Messer Giovanni e voi perché dite voi così a me e dissero i frati ma noi credevamo dire bene e Messer Giovanni rispose come credete dire bene che venite a me e dite che Dio mi facci morire di fame non sapete voi che io vivo di guerra e la pace mi disfarebbe ultima cosa credo è l'ultimo pezzo sì sembra tutto bene insomma l'ultima cosa che se vi seguite ancora se ce la facciamo ancora volevo grazie che volevo sottolineare è questa è una conseguenza di tutto quello che abbiamo detto queste guerre medievali pur nella loro enorme diversità dalla scaramuccia della guerricciola fra due signori locali alla guerra dei cent'anni sono guerre combattute da professionisti il grosso della forza è composta da professionisti da gente che per tutta la vita ha fatto quello e che quindi conosce la guerra io finora ho insistito sul fatto che devono conoscerla tecnicamente cioè devono appunto essere in grado di fare queste cose ma conoscere la guerra è anche un'altra cosa significa appunto conoscere avere esperienza conoscere i trucchi sapere come si fa come si deve fare la guerra e questo significa anche che questi guerrieri medievali questi cavalieri uomini d'arme medievali sono estremamente realistici quando raccontano la loro partecipazione alle guerre tanti di loro hanno scritto cronache ricordi e tu vedi cioè capite leggi i ricordi di un cavaliere medievale che racconta le guerre le crociate a cui ha partecipato tu in base a un cliché ti aspetteresti una certa visione romanzata ti immagini il cavaliere che vuole apparire il cavaliere senza macchia e senza paura il cavaliere senza macchia e senza paura è un'invenzione moderna è un'invenzione del tardo rinascimento i cavalieri medievali non si sarebbero mai sognati di erigere a ideale uno senza macchia sì senza macchia se possibile bisogna essere senza macchia ma senza paura è ridicolo pensare che ci possa essere qualcuno che in guerra non ha paura prova a dettagliarvi meglio questo tema ovviamente non vuol dire che si apprezzano i codardi il codardo no quello che scappa senza motivo quello che abbandona il campo di battaglia abbandonando i suoi amici no quello è vergognoso e ognuno desidera fare bella figura capite allevati in questa cultura sanno anche che chi si comporta bene in combattimento poi è ammirato è ammirato dagli altri è ammirato dalla sua famiglia dagli amici dalle donne cosa importantissima c'è un episodio nell'opera di Jean de Joanneville che è un cavaliere francese che ha partecipato alle crociate con Luigi IX il santo metà del 200 e poi molti anni dopo ha scritto i suoi ricordi della sua vita delle sue crociate del re santo San Luigi Joanneville racconta un episodio in un combattimento in Egitto durante una crociata che poi è finita malissimo disastrosamente come sempre e durante questo combattimento lui e un altro gran signore tipo il conte di Boulogne si sono trovati solo loro due a cavallo coperti di ferro a difendere un ponticello mentre il loro esercito era in ritirata e Joanneville prima cosa dice ne abbiamo visti tanti passare di corsa noi eravamo lì fermi a tenerlo questo ponticello ne abbiamo visti tanti passare di corsa noi gli dicevamo ma fermatevi a darci una mano quelli zitti via filavano e dice Joanneville potrei anche dire i loro nomi ma non lo farò perché ormai sono morti e poi finiti i fuggiaschi arriva il nemico e voi capite ci sono questi due cavalieri sono due nobilissimi signori quindi hanno ottimi cavalli ottime armature due cavalieri a difendere un ponticello e una massa di saraceni che arrivano a piedi quindi marmaglia dal loro punto di vista la marmaglia si ferma perché va bene che i cavalieri sono solo due però chi è che va sotto per primo quelli sono lì con la spada in pugno i cavalli che si impennano dice Joanneville i saraceni si sono fermati hanno cominciato a insultarci a mostrare i pugni qualcuno raccoglieva manate di fango ci buttavano manate di fango e noi fermi lì però poi pian pianino questi aumentavano e venivano sempre più sotto e noi a un certo punto abbiamo cominciato a dire che vogliamo fare ecco e il conte di Bologno che era con me dice Joanneville mi ha detto siniscalco era siniscalco di Champagne governatore della Champagne per conto del re Joanneville mi ha detto siniscalco per la cuffia di Dio dice Joanneville perché lui giurava così aveva questo modo di dire per la cuffia di Dio state di buon animo che la racconteremo ancora voi e io questa giornata nelle camere delle dame e cioè voglio dire stiamo rischiando la pelle però però se torniamo a casa eh vuoi mettere ecco poter raccontare questo quindi si tiene a fare bella figura un altro cronista l'anonimo romano cronista italiano del 300 che non sappiamo chi sia come si chiama ma è romano scrive in una bellissima lingua se qualcuno di voi si appassiona di medioevo leggete la cronaca dell'anonimo romano che è straordinaria scritta in dialetto romano dell'epoca e l'anonimo romano racconta a un certo punto uno scontro fra baroni rivali colonna contro orsini che anche lì due famiglie che da sempre si odia a un certo punto si arriva a uno scontro nelle vie di Roma con interi reparti di cavalleria delle due famiglie che si scontrano e l'anonimo descrive con entusiasmo questo scontro i più coraggiosi che si fanno sotto e lo descrive al presente in tempo reale a un certo punto gli scappa da dire qui si vedrà chi è figlio di buona mamma tu devi far vedere se sei figlio di buona mamma o figlio di ecco appunto però però questo non vuol dire che devi essere uno che non ha mai paura perché non avere mai paura non esiste non sei una persona seria se sostieni che tu non hai mai paura non sei una persona seria oppure sei un ragazzino che non ha mai visto niente questo è l'altro tema perché gli uomini veri sanno che il coraggio non significa non aver paura significa tenerlo sotto controllo e che saper fare la guerra non significa non scappare mai tutt'altro significa scappare spessissimo quando ce n'è proprio bisogno c'è una canzone di gesta sapete che queste canzoni di gesta sono uno dei grandi corpus di letteratura che esprimono la mentalità di questa aristocrazia feudale di cavalieri c'è una canzone di gesta in cui la chevalerie vivienne si chiama in cui c'è il protagonista che è un vecchio guerriero famosissimo Guglielmo d'Orange e il nipotino che è un giovanotto alle prime armi e questo giovanotto pieno di entusiasmo si chiama Vivienne appena armato cavaliere nell'entusiasmo di essere diventato cavaliere dice fa un voto dice io in battaglia faccio voto di non fare mai un passo indietro davanti al nemico lo zio che è uno dei grandi eroi delle canzoni di gesta gli dice nipote durerete molto poco non c'è uomo per quanto forte e valoroso a cui non tocchi scappare quando è sotto pressione se si trova in battaglia campale e non vuole lasciarsi tagliare a pezzi caro nipote questo voto non è il caso di mantenerlo voi siete giovane lasciate stare queste sciocchezze e di questa cosa si ritrova nella letteratura medievale continuamente l'eco e la conferma lo racconta anche Dante di se stesso in un testo che purtroppo non abbiamo più ma che fu letto nel 400 da Leonardo Bruni biografo di Dante che aveva sott'occhio delle lettere di Dante in cui Dante raccontava di aver partecipato alla battaglia di Campaldino 1289 grande vittoria fiorentina contro i ghibellini di Arezzo e Dante in questa lettera raccontava dice il Bruni le varie vicende di questa battaglia in cui e lì il Bruni cita cita letteralmente Dante il quale dice questa battaglia a cui partecipai non fanciullo nell'armi cioè aveva 25 anni Dante in quel momento 24 e dice sapevo già cos'è la guerra e ho avuto una gran paura in cui ebbi temenza molta ecco uno non ha problemi a confessarlo è normale anzi è tanto più normale se nella stessa frase tu stai dicendo non ero più un ragazzino sapevo cos'è la guerra e quindi ho avuto una gran paura e poi è andato tutto bene abbiamo vinto è grande gioia è tutto però appunto la paura non è non è un tabù faccio ancora un esempio sono i cronisti che a me hanno insegnato ad amare il Medioevo proprio per l'estrema franchezza con cui raccontano la realtà così com'è è un cronista francese della fine del Quattrocento Philippe de Comines uno che ha accompagnato Carlo VIII dell'invasione dell'Italia nel 1494 Philippe de Comines rievoca nelle sue memorie una battaglia combattuta qualche decennio prima quando era giovane e dice in questa battaglia ho avuto meno paura di quanta ne abbia mai avuta dopo negli scontri in cui mi sono trovato perché ero giovane e non avevo nessuna cognizione del pericolo ecco questa estrema disinvoltura nel dire le cose come stanno fa sì che il racconto della guerra nei testi medievali sia spesso di un grandissimo realismo un realismo che coinvolge proprio la capacità di cogliere gli stati d'animo dei combattenti non c'è niente di romanzato si racconta quel che succede davvero sempre Comines che racconta questa prima battaglia della sua vita in cui dice non ho avuto tanta paura quella volta lì perché ero all'inizio però poi dice siamo andati un po' avanti poi ci siamo fermati i nostri arcieri hanno preso le prime case del villaggio il nemico ha cominciato ad arretrare e allora siamo andati avanti ancora un po' anche noi poi però ormai la giornata era avanzata non si capiva più bene non si capiva chi stava vincendo fondamentalmente poi abbiamo capito che avevamo vinto noi però dice ci sono state certe mezz'ore in cui noi che eravamo rimasti là non avevamo l'occhio che a scappare se fossero venuti avanti i cento uomini cioè noi siamo qui forse abbiamo vinto a posteriori dire abbiamo vinto ma in realtà io lo so benissimo che se avessimo visto spuntare cento nemici davanti scappavamo tutti il campo era spianato a zero dove un'ora prima c'era il grano così alto la polvere la più terribile del mondo tutto il campo seminato di morti e di cavalli e non si riconoscevano i morti per la polvere nessuno aveva più voglia di combattere e vi cito ancora un ultimo esempio un capitano francese che ha combattuto nella guerra dei cent'anni Jean de Beuil ha fatto tanta esperienza scrive un romanzo intitolato Il giovanotto in cui racconta appunto le sue esperienze in guerra cominciando da quando era un giovanotto e non sapeva niente e e tutta quest'opera è tutta costruita per mostrare come lui che da giovanotto non capiva niente della guerra pian piano e quindi non aveva paura pian piano ha accumulato esperienza e in tutto questo romanzo questo capitano come dire dispensa i suoi consigli ai suoi colleghi a chi vuole imparare com'è che si fa la guerra e in questo imparare com'è che si fa la guerra continuamente torna il tema del fatto che la psicologia dei combattenti è una cosa decisiva la devi capire la devi conoscere e nella psicologia dei combattenti l'emozione dominante è la paura e quindi Jean de Beuil dice è meglio si può combattere anche di notte volendo è meglio combattere sempre di giorno dice no è meglio combattere di giorno perché la notte non conosce vergogna di notte quelli che vogliono scappare scappano dei tuoi si intende e tu non ci puoi fare niente quando attacchi un gruppo di fanti nemici tu sei a cavallo naturalmente uomini darmi a cavallo hai isolato un gruppo di fanti nemici li vuoi spazzare via loro però sono lì con le spalle al muro dice no gli devi sempre lasciare una via di fuga perché ce ne saranno sempre dei codardi che se ne andranno e spaventeranno anche i coraggiosi e non è che scappando si salveranno ma non tutti arrivano a capirlo e se vuoi attaccare una colonna nemica in ritirata dopo l'azione devi aspettare che sia quasi arrivata al suo accampamento il momento migliore per attaccarli è quando sono quasi arrivati a casa perché intanto i primi non torneranno mai indietro per aiutare gli ultimi e soprattutto quando sono vicini a casa si disordinano e nessuno può riuscire a tenerli uno è stanco l'altro ha l'armatura che gli pesa vedono la salvezza vicina uno ha paura l'altro ha voglia di essere in salvo ce n'è ben pochi che vogliano tenere la formazione i comandanti sono stanchi perché li hanno combattuti tutto il giorno il comandante ha combattuto i suoi uomini perché il comandante tutto il giorno deve essere lì che strilla per tenerli fermi tenerli in posizione e infatti non possono più parlare i comandanti a forza di gridare non li sentono e se li sentono fanno finta di niente i capi non hanno a che fare con un uomo solo hanno a che fare con tutta la compagnia e ognuno sta in mezzo agli altri ciascuno si nasconde e trangugia la sua parte di vergogna e dice ma non sono io e tutti si affannano a dire restate restate tenete la formazione tenetela ma non ce n'è uno che non vorrebbe essere a casa allora naturalmente come dire chiudiamo questo mondo ha anche prodotto però tutta una poesia cavalleresca in cui si esaltano invece appunto i grandi eroi i grandi colpi di spada eccetera perché perché come tutto in questo mondo medievale non c'è una verità ma c'è una tensione c'è da un lato la tensione al realismo che permette anche a chi lo vuole di prendere in giro questi nobili che si come dire si danno tante arie perché loro sono uomini di guerra e il signore il principe quando vuole fare la guerra ha bisogno di loro ma ci sono anche testi medievali che si fanno beffe di queste pretese dei nobili vi cito un romanzo francese dell'inizio del trecento Renard con trefè in cui fra l'altro si fa la descrizione appunto del nobile quando arriva davvero la guerra perché il nobile è uno che si vive tranquillamente sulle sue terre sfruttando senza pietà i suoi contadini e guarda dall'alto in basso tutti quelli che non sono nobili finché non gli arriva la convocazione del re che lo chiama per la guerra era passato un bel po' di tempo dall'ultima volta nobile va in cantina apre il baule comincia a tirar fuori c'è un vecchio elmo tutto ammaccato la corazza piena di buchi tutto arrugginito però la convocazione è chiarissima fra una settimana devi trovarti nel tal posto a cavallo armato di tutto punto quindi il nobile a quel punto si rassegna si fa imprestare i soldi e va al mercato a comprare siccome c'è la guerra che arriva i prezzi al mercato sono saliti di colpo e quindi il nobile compra a credito indebitandosi per il triplo del loro valore vecchie armature malconce vecchi cavalli azzoppati e poi in questo bell'arnese si presenta al suo signore per andare a fare la guerra e va in guerra e c'è anche il momento dello scontro in cui l'unica cosa che gli interessa è salvare la pelle dice l'autore tutti l'unica cosa che gli interessa è salvare la pelle si guardano dai due lati del campo di battaglia quando capita che uno scappi e uno si azzarda a inseguirlo in realtà dice l'autore non so mica quale dei due ha più paura se è quello che scappa o quello che insegue e del resto piccola parentesi jean de beu il capitano della guerra dei cent'anni che citavo prima in uno dei momenti in cui si rivolge ai giovani perché imparino cosa vuol dire far la guerra gli dice mi raccomando restate freddi non c'è bisogno di scaldarsi bisogna essere valorosi ma non bisogna perdere la testa restate freddi e anche quando vi viene addosso il panico ricordatevi che il vostro nemico ha più paura di voi e poi il nobile torna a casa e si trova schiacciato dai debiti e rivende tutto quello che aveva comprato per un decimo del suo prezzo ecco questo è l'eroismo dei nobili secondo l'autore di questo romanzo i nobili invece cosa pensano e dicono e scrivono noi noi siamo i nobili e comandiamo e abbiamo un sacco di privilegi e sfruttiamo i villani ma ce lo meritiamo perché noi siamo quelli che fanno la guerra e corrono i pericoli e affrontano le fatiche della guerra questa è un'ideologia di cui la nobiltà europea si abbevera per secoli per giustificare la sua egemonia sociale e chiudo citandovi due esempi uno è del 300 un cronista spagnolo i cavalieri si espongono a ogni sorta di pericoli gettano il corpo nell'avventura di una vita che sfiora sempre la morte pane e gallette ammuffite carne cotta o cruda oggi pasti sufficienti e domani niente ben poco vino acqua di stagno o di barile a quartieramenti scadenti una tenda o i rami dell'albero come riparo letti scomodi dormire poco e con indosso l'armatura carichi di ferro e col nemico a un tiro d'arco il messaggio è noi tutti i nostri privilegi ce li meritiamo perché quando il re ha bisogno di fare la guerra siamo noi quelli che affrontano tutto questo e vi dicevo e con questo chiudo davvero vi dicevo che questa cosa è di lunghissima durata nella mentalità delle aristocrazie europee vi cito un autore poi vi dico chi è se non dovessimo dormire sul duro sopportare con l'armatura addosso la calura del mezzogiorno mangiare carne di cavallo o di asino vedersi tagliare a pezzi e strappare una palla finita in mezzo alle ossa primo indizio hanno già inventato l'archibugio e quindi fra i rischi della guerra c'è anche questo ti è arrivata una palla d'archibugio nel corpo e la sera il chirurgo ti fruga fra le ossa per tirarla fuori sopportare di essere ricuciti cauterizzati e sondati e come faremmo altrimenti ad acquistare il vantaggio che noi vogliamo avere sulla plebe sapete chi scrive queste cose siamo alla fine del cinquecento è un grandissimo filosofo che noi conosciamo come un grandissimo filosofo Michel de Montaigne Montaigne uno dei grandi filosofi del rinascimento francese ma anche nobile signore perfettamente convinto come sono convinti da secoli i suoi antenati che la guerra è cosa da nobili e che è cosa sì gloriosa ma anche certo diciamolo faticosa durissima pericolosa ma proprio per questo noi nobili ci meritiamo di essere quelli che nella nostra società comandano e hanno tutti i privilegi e quindi insomma vedete ci sono i professionisti della guerra e ci sono i professionisti del racconto c'è il racconto realistico e c'è il racconto ideologico fatto per calcare la mano da una parte e dall'altra appunto c'è il realismo e c'è l'ideologia e forse anche questo diciamo è una lezione quando ci si trova di fronte a chi ci racconta le guerre di oggi grazie grande grande